Ciao a tutte mie divine, oggi vi voglio parlare di un prodotto nuovissimo in casa mai sezione aurea e sto parlando di Nikla, il booster notte, il non tonico ma fotonico io l'ho chiamato così per l'effetto strepitoso che ha sulla pelle una formulazione molto particolare che rende la texture veramente leggerissima contiene dei principi attivi di pregio, in particolar modo l'acido malico e l'acido mandelico che sono due alfa idrossi acidi che hanno proprietà schiarenti ed esfolianti per tutte le proprietà di acido malico e mandelico abbiamo fatto una lezione sul vocabulario quella del 22 ottobre che vi consiglio di andare a leggere oltre l'acido malico e l'acido mandelico contiene anche gli estratti di calendula e di camomilla che hanno proprietà calmanti, lenitive e addolcenti più contiene l'estratto di cetriolo, schiarente, decongestionante e astringente e la niacinamide, luce, le macchie e i pori della pelle quindi è un booster note dedicato a tutte quelle persone che hanno problemi di impurità di macchie della pelle o di rughe lo trovate in questa confezione di vetro con il contagocce abbiamo scelto il contagocce nero così anche se dovete avere le mani sporche non macchiate assolutamente il prodotto la texture è veramente leggera abbiamo utilizzato il contagocce perché è un prodotto iperconcentrato infatti va utilizzato alla sera, mi raccomando non alla mattina, alla sera dopo la detersione e l'applicazione del tonico poche gocce vanno massaggiate su tutto il viso, collo e décolleté va utilizzato o tutte le sere a mesi alterni quindi un mese sì, un mese no oppure due o tre volte a settimana in modo continuativo quindi tutti i mesi nel caso in cui volesse applicare anche siero e crema viso bisogna lasciare agire il booster note per 5-10 minuti e poi si passa a siero viso e crema viso in caso di pelle sensibile è meglio evitare le zone un pochino più delicate del viso come ad esempio le alette del naso questo prodotto oltre ad essere un prodotto veramente ottimo per chi ha problemi di rughe, impurità o di macchia della pelle è validissimo in questo periodo detta maschene, l'acne da mascherina perché agisce appunto sulle impurità e va a levigare la pelle e a renderla più uniforme il risultato del booster note è una pelle più luminosa distesa e vellutata ha una profumazione bellissima è proprio speziata da di paciuli ma anche qualche nota dolce ed è una vera coccola sulla pelle fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto io intanto vi mando un bacio e vi rimando poi al prossimo video ciao